Buongiorno raga, buongiorno, anche oggi sveglia alle 6 e mezza, va bene proprio a un piano mi sto abituando eh Oggi Outfit Arco Baleno, andiamo, qui dicevo buongiorno, buongiorno raga, buongiorno Apriamo il paese delle meraviglie Oh, non pensavo che mi sarebbe piaciuto così tanto passare il tempo comunque in palestra eh E anche oggi eccomi qua con la piccola, accendiamo il tapirulan, quindi accendiamo Uno, due Accendiamo anche la televisione ovviamente la giriamo, accendiamo la televisione così guardiamo un bel film e ci passa il tempo Saliamo Anzi devo dire che questa mattina mi sono svegliata meno stanca, vabbè ieri comunque sono al lavoro, ah sì al lavoro buonanotte Sono a letto molto molto presto eh, quindi piano piano mi abituerò perché comunque ci vuole anche abiturre Vabbè dai, almeno mettiamo tre, dai piano piano, riscaldamento, andiamo, televisione accesa e cominciamo a camminare Normal, però piano piano, guardate i capelli, qui non lo so che è successo, vabbè sette minuti ecco, sette minuti e cinquantadue E aumentiamo anche un po' la velocità, dai piano piano, regà cominciamo pure a correre Anche l'inclinazione, oh brava Ambra, eccola qui, Ambra guarda il film che cammina, brava Ambra dai Vedrai che tra un anno quando guarderai questo video dirai mamma mia quanto sono di materica, vai 12 minuti, 13 minuti vai Brava, ha alzato anche l'inclinazione, bravissima, quindi come te stai facendo, oh all'altro sei brava, brava, sei bravissima Sì sono fiera di me, perché svegliarmi alle 6 e mezza erano anni, prima mi allenavo sempre, mi svegliavo tipo alle 6 Andavo in palestra prestissimo, ah eccolo un king che alza pesi, non potevo non farvelo vedere 17 minuti, dai Ambra, 19, ecco un king che sta alzando 105 chili, qui sono 20, 25, 15, quindi 105 chili Eccolo qui, ha messo altri pesi, 125 chili, bravo king dai Poi, ecco un'ambretta stanca e sudata, sì, però contenta Ed eccoli qua, 21 minuti, brava, un king che sta facendo, sta mettendo altri pesi, bravissimo, 145 chili, bravo, bravo Io che non riesco neanche a alzare 10 chili, comunque c'è, bravissimo, veramente, sono fiera di te king, ti amo E grazie per la compagnia che mi fai, 29, 30, ole, sì, avevo fame, quindi volevo andare a fare colazione, meno male, 30 Ok, abbassiamo tutto, così ci raffreddiamo un po' perché noi potremmo scendere bollenti Ok Ecco l'ambra stanca Allora, i pesi sulle gambe non li faccio perché ieri mi hanno smontato quei pesi Facciamo un po' per le braccia, però qua sentiamo un po' di dolore Ora vedete la mia faccia perché mi facciano male, male, male le spalle Ecco là, non ce l'ho fatta Il king vicino dice dai, mo ce la fai, dai donna, dai Non ce l'ho fatta, mi fanno male le spalle tantissimo Un'ambra sofferente Ok Aiaia, me ne vado che è meglio Io demoralizzata perché, non lo so perché, ma mi fanno male le spalle Sto là sulla porta e guardo il king che alza, alza, alza Cioè non ti fanno male, a me fanno male a morire Vabbè lui è pure abituato comunque, cioè lui tutti i giorni, ormai da anni Ha messo anche più pesi Io lì, super demoralizzata, non fiera di me stessa Perché ovviamente, non fiera di me stessa Però, vabbè, domani alzerò Triste Vabbè, che guardo lui Che la faccio addormentare Andiamo a fare la doccia Ci laviamo anche i capelli Asciughiamoli Con l'altra mezz'ora qui ad asciugarli Che bello, il fan ora che è caldo E niente, eccomi Adesso colazione, oggi con la treccia Perché è domenica Colazione più carina E ciao, seguitemi su IG